Allora, gamers, in realtà sto registrando subito dopo il video precedente che voi avrete visto 3-4 giorni fa Perché? Perché appunto voglio mostrarvi il quarto piano e non solo in realtà Volevo fare in modo anche di portarmi avanti e farlo vedere a video Perché appunto, com'è giusto che sia, c'è ancora? Cazzo mi stai dicendo? Ma non l'avevo già fatto? Scusami, io non ero spawnato lì Ah no, dove cazzo è? Scusami, dov'è che ho... dov'è che mi son teletrasportato allora? Scusami, perdonami, excuse moi, dove cazzo mi son teletrasportato se non mi ha fatto... Boh, no, 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 ho capito in realtà Mi ha teletrasportato nel terzo piano? In realtà non volevo andare nel terzo piano Però forse il gioco comprende ancora la roba del terzo? Proviamo, oh bello questo scudo, non mi è mai capitato Allora, questo sarà qui, questo qui, questo dove può stare va benissimo Questo lo mettiamo qua, questo lo decidiamo di metterlo qui Questo poteva andare benissimamente a farsi potere Qui, bravo, Filippo, grande Infatti perché io mi chiamo Filippo in realtà Non in realtà, cioè, è questo e basta Non credo di averlo mai detto a nessuno Perfetto, abbiamo completato Fammi vedere se porta l'altro Scusatemi, ho sbagliato Ok, sì Questo è un 100% non l'ho mai capito a che cazzo serve Quindi adesso, cioè, non l'ho mai capito Mi è uscito adesso, quindi Salve Questo è un 100% in base di cosa però, scusami Ah, forse... ah, un double reward Perfetto, allora già andiamo... Instant Instant, signore Instant Nel frattempo, off camera Tanto voi non lo vedrete Ho avuto un itus Probabile Allora In realtà vorrei puntare tutto sull'itz Per il momento Perfetto, abbiamo trovato il party Oh, salve Il problema è che dobbiamo salire al livello 50 Quindi dovevo sperare di riuscire a fare due livelli in un video O comunque sperare di essere abbastanza forte Dove cazzo va? Scusami, però con tutta la buona volontà Oppure sperare di riuscirci In realtà, ma la vedo veramente difficile La vedo seriamente difficile, amico Perché sai, è difficile giocare in questo modo Avere l'exp contata Questa è una cosa fastidiosa per noi giocatori Questo è vero, però sappiamo Cioè, sinceramente, credo che l'exp limitata sia l'invenzione più stupida dell'universo Dopo, non so che cosa in realtà Immaginate quanto sia stupida la cosa Se non riesco a trovare paragoni Eh già, soltanto YouTube verità su questo canale Dovrebbe essere tipo Non lo so È sera, sono un idiota Quando è sera incomincio a svalvolare Probabilmente devo registrare di sera Magari diventano più divertenti i video Non un mortorio e una frustata sui coglioni Questo è molto probabile Intanto non spawnano roba perché è più figo Mi sa che è crashato tutto Oh no, salve Attimi di paura nei miei occhi Proprio che c'era il double reward Qua la gente vuole sabotare Palese, sabotaggio dell'universo Perfetto, ho cambiato target come se non fosse nulla Cioè, giustamente non è una gara che fa più punti No, no Non bisogna completare i punti Che succede? Perché sono rimasto stannato pure io? Era rimasto... A lui l'ha fatta la cazzata Ma perché cazzo devo essere condannato anche io? Mi perdoni? Io non c'entro nulla Non c'entro un cazzo Perdoni ma lei ha preso un granchio Io volevo la ragosta Mortacci tua Ma mi sta prendendo pure fame Adesso vado a mangiare qualcosa Un velocirattore potrebbe essere utile Ovviamente per mangiarlo Non per salirci sopra Che cazzo pensate? Cavalcare un velocirattore Veramente nel 2021 Poco ambiziosi siete Poco ambiziosi Aspetto praticamente all'orso Gli sto facendo le carezze qua Tacci tua Crepa Per favore Grazie Undici secondi E poi tutti a casa Niente Congratulation Inchia quasi mille Apprezzo Appriezzo Appriezzo la fiertà Allora Quasi siamo riusciti a salire di livello Forse riusciamo a vedere il livello 49 Oltre non credo Allora Andiamo da il nostro piccolo arguccio Vieni qua Piccolino mio O piccolina mia Non ho mai capito il sesso di sto tizio Tizia Non binario Allora Questa qui Allora adesso ci voglio pensare Questa è sicuro Proprio perché c'ha questa stellina qui Che non so minimamente È la B Fatti la C Sword Art Online Credo Che sia la D No C'è anche iscritto Però vabbè La Tut C Va bene Mi sembra giusto MMO Va benissimo Questo Onesto Onesto Credo 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 Sia questo Era la B Cazzo C'ero quasi Palese C'ero quasi Chi dice il contrario Non si dice Non si dice Non si dice mai Poi la gente qua Viene a protestare Si lamenta Che io sono una persona Orribile Che è la verità Palesemente la verità Ragazzi Non 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 Oggi sono dislessico Non so più voglia di parlare Intrattenetevi da sole Non roppete i coglioni E datemi dei soldi Forse quell'ultima parte Non dovevo dirla Credo proprio di no Allora Ambarabà Ciccocco Credo che I figli Stanno su questo Comocco E infatti Più 200 C'è sta Allora 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 Cose importanti Che voglio fare È appunto Cercare di Spaccare Il culo In 47 Modi Diversi A questo piano Poi andremo nel prossimo Poi nel prossimo Ancora Finchè Finché Gesù Cristo Dice No Basta Tutto Chiaro Perfetto Allora Andiamo a Spaccare il Quello A questi Bellissimi Piccolini Giusto perché Ci va Allora In realtà Tu Dovresti essere Il Buesch Dovrebbe essere Un pochettino Più alto Di tutti E teoricamente Dovresti darmi Abbastanza Roba Da poter andare A miglior vita Vero 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 Allora Ci facciamo la seconda La missione secondaria Di sto tizio E servono altre due Ok Uccidiamo questi Bellissimi Toporagni Questi già non danno più Expo Cioè Pigli di puttana Sono livello 49 E non livello 345 miliardi Di 45 milioni Di biliardi Di bilioni Cifra accuratissima Perfetto Andiamo avanti Dove posso unire L'umile al dilettevole E con dilettevole Intendo uccidere De boss Uno e due Perfetto Andiamo qua Dove sta? Dove sta? Dove sta? Io adesso ti ammazzo Pezzo di me Ti ammazzo eh E qua E qua Io non ho paura di te Tu devi avere paura di me invece No ma poverino Non volevo picchiare lui Mi perdono Perdonami Non volevo Arrivederci Arrivederci Perfetto Signori Andiamo qua Tempo a doppia un po' No guarda Non voglio Vabbè Ci troviamo qua Sterminiamovi Così Levate dai coglioni Perfetto Io non sto piando Un cazzo di nessuno Ancora una volta Non sto piando Un cazzo di nessuno Quindi Ma dove cazzo Ma perché? Perché? Do 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 Permettimi di fare una cosa Adesso E di picchiarti In 72 modi diversi Perché mi stai sui coglioni Grazie Secondi che devo aggiustare una cosa Ok Molto probabilmente Molto meglio così Voi non avete notato la differenza Io sì Perché mi triggera Lei sta dormendo Signorina Asuna Non va bene Non va per niente bene Non bisogna dormire sul lavoro Bisogna completare il gioco Ci sono delle vite Eh? Eh? Porca puttana Ve lo giuro Non sono drogato Almeno è quello che penso io Poi non lo so Se mi drogo Non lo so Fatemelo sapere nei commenti Do do Molto probabilmente il mio pg però si droga Questo è poco ma sicuro Sa che ammette di ricevere Di assumere sostanze Avete capito? Basta Non state qui a sindacalizzare Su quello che dico Per favore Signor boss È lei il boss? Ma perché cazzo All'improvviso succede Che faccio Oh sì Non ho capito Perfetto Ho fatto due missioni Non mi ha dato l'exp Perché? E l'exp Cioè Così Abbandoni così Pezzo di me Zero di venti Che intende dire? 374 chilometri Metri No chilometri Che cazzo dico Dove stai andando? Mi perdoni Aspett Giusto Oh mannaggia Che cazzo deve Deve switchare Robbe Boh Salve Mi ha buttato Nel belieso Della ventura Mamma mia Quanti signori Possiamo parlarne Questo non mi sembra Proprio il caso Di spaccarsi il culo Salve Ragni di merda Vedete qua Che vi faccio Fa una pesta Incredibile Dove esplodete Rinate E poi Riesplodete di nuovo Dai Dai Non uccidetemi Pezzi di merda Sono venuto Dalle tenebre Per farvi il quello Un shit Irigoy Gian Ecco Servirebbe un bellissimo Killer In questo momento Grazie Tutti per terra Dai Non è il tempo Di stare a dormire Per favore Porco Giuda Congratulation 100% 10 su 10 Grandi successi Easy peasy Lemosqueasy E via discorrendo Allora Se io parlassi Cote Tu dovresti darmi Una missione Tanto non mi ha fatto Neanche andare A livellare un po' Ok Sono molte A bordo di persone Purtroppo Solo 70 Niente exp Come mai Cazzo me ne servono 7 per quello Dai continuiamo A fare tutta questa robina Qui Andiamo a fare Questa qui Di 10 su 10 Dai Questo episodio qui Voglio farlo Solo Di missioni secondarie Il prossimo Invece Ve lo prometto Andremo a visitare Primo Secondo E terzo Labyrintho Con le chiavi Questo è poco Ma sicuro Ecco Forse ammazzarne 10 Potrebbe essere utile Magari mi droppase qualcosa Non credo Però vabbè Per un fietto Continuiamo Con la nostra Missione secondaria Ci troviamo Ammazziamo pure Il mini boscino Qui Salve Ragazzi Andiamo avanti Uuuuh Bisogna raccogliere l'erba Dai Per un fietto Andiamo avanti Ci troviamo Katun Su Morite Amici miei Me ne mancano 7 Me ne mancano 6 E' saltato nella stratosfera Quel povero cervo Posso dirvi che non volevo farlo Volevo ucciderlo in questo modo Un po' troppo cruento Oh intanto non ci sta da Exp Non ci sta da nulla Questo potrebbe essere un problema Per il tempo abbiamo le Cvest che ci abbiamo Giusto perché ci troviamo E possiamo farlo Abbiamo lui 10 Ci va bene Perfetto Ci abbiamo un bordello di questo Exp Che possiamo utilizzare in modo Blando Ragni che possiamo uccidere Vabbè guys Mi sa che Il farming verrà fatto Off camera Purtroppo Perché Se no Vengono video Veramente noiosi E niente Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un like Un commento Ed iscrivetevi al canale Noi ci vediamo Allora Ciao Ciao